Cosa? Che sta succedendo? È finita per te! Ti prego, no! Cosa posso fare? Non posso, sono troppo debole! Di le tue ultime preche... Sta lontano da lei! No, Minnie! Mi spiace, mamma, non sono riuscito a salvarti! Chi è là? Eh? Ehi, piccolo! Cosa? Vieni da Daisy! Ehi, guarda cosa ha fatto quel cattivone alla mia mamma! Non se lo meritava! Lo so, tesoro, andrà tutto bene! Non mi prenderai! Wow, sei velocissimo! Ho sentito qualcosa! Ho una famiglia! Fermati, criminale! Sei di nuovo tu! Basta ferire l'equipaggio! Ci serve per andarcene! Non fai paura proprio a nessuno! Aiutami, ti scongiuro! Non voglio morire! Chiudi quella boccaccia! Voi due siete i prossimi! Oh, capelli! L'ho fatto davvero! Ora tocca a voi! Forza, fermiamolo! Forza, fermiamolo! Oh, no! Non in begafono! Non scapperai questa volta! Ora! Che sta succedendo? Cosa succede qui? Non è vero! È stato quel brutto fioraccio! È lui l'impostore! Cosa? No! Allora è stata lei! No, dovete credermi! Lei è buona! Lo giuro! Tu non sai di cosa parli, figliolo! No, no! È il momento che lei se ne vada! Oh, no! Daisy! No, no! Fermi! In nome della legge! Avete preso il fiore sbagliato! Quello che dice il bimbo è vero! Ascoltatelo! Il postore! E' questo! E' questo! E' questo! E' questo! Tocca a me! Hai giocato con il fuoco! Ho giocato con il fuoco! Bello! Signore! Signore! Volevo ringraziarla per poco fa! Oh, hai fatto un ottimo lavoro! Guardala! Daisy! Ce l'abbiamo fatta! Siiii! Dammi il cinque! E questo è facile! Al lavoro! Ok! Compiamo la nostra missione! Eh? Cosa è stato? Io non vedo niente! Sembrava una voce! Boh! Sfortunatamente non era la tua immaginazione! Cosa? Non è possibile! Cavoli! Vieni qui! No! Adoro quanto scappano! Non così in fretta però! ma che dove pensi di andare ti prego non farlo sono troppo giovane per morire dai non mi interessa arriva qualcuno sento i passi forse è meglio nascondersi non mi hanno visto ora è meglio muoversi ma che ciao ciao cara stavo finendo questo compito vuoi provare tu davvero dicendo vai ok va bene tu sei l'impostore forse è rotto oppure no devo perdire gli altri oh non così in fretta qualcuno mi aiuti ma che non è come pensi penso proprio di sì invece tu sei l'impostore scusa ma non vuoi sentire la mia diversione e va bene dai forza sentiamola ehi ragazzi e va bene addio che sta succedendo il mistero è risolto l'impostore è proprio davanti a voi ma di che stai parlando guarda che qui non c'è nessuno no non è possibile quindi tu sei l'impostore cosa no ragazzi non sono stato io ora basta mentire forza muoviti ragazzi state commettendo un errore ovviamente che lo è e questo cos'è devo riferirlo agli altri è finita per l'impostore ci sono solo quattro di noi siamo in tre perché lui è l'impostore cosa no non è assolutamente vero io non lo so io non so di cosa parliate ma vi prego non fatelo sta mentendo l'ho visto con le telecamere ah ok potiamo per il sì ah sì ma tanto io vi ammazzo prima ah fuggiamo tornate qui questa nave non è così grande non potrete nascondervi da me oh no piccolo cieco e ora che cosa facciamo morirete stati a guardare no ti prego non farlo oh capparino ah ma guarda un po' ti prego chiedo perdono purtroppo non funziona così il mio lavoro qui è finito ci hai salvato l'hai sconfitto ah 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 prima grazie adoro giocare con te bonzo non pensavo vissi giocattoli così belli cos'è questo rumore vieni da quel condotto ma si è mosso sì l'ho visto anch'io ma c'è qualcuno potreste andare a controllare sì ci vado subito io vado a nascondermi oh no ho un sacco paura ma mi farò coraggio devo aiutare i miei amici andiamo bonzo vieni fuori chiunque tu sia riesco a vederti dalla grata ehi vieni a vedere penso sia uno dei tuoi amici ho troppo paura bonzo e se poi ci fosse un mio amico hai detto e chi sarà mai oh no bonzo è l'impostore oh io me la basso pensavi fosse vostro amico e invece ora vi ammazzo tutti non puoi dirmi cosa fare ho una missione da completare ops arriva qualcuno meglio battersela vi tengo d'occhio voi tre ho sentito delle urla state tutti bene? avete bisogno di aiuto? è tutto vero signor agente oh non di nuovo vi prego ho paura ho paura e poi non era niente e così non vi ha creduto eh oh no devo fare qualcosa qualcuno deve aiutarci ehi ragazzi c'è un impostore con un coltello vuole ammazzarci ma la polizia non ci crede ehi siamo occupati ma 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 non avete capito stavo solo cercando di avvertirvi ehi tu oh che c'è? bonzo? si sono io fai attenzione c'è un impostore nei paraggi oh no io però non ho visto nessuno nessuno vuole aiutarci ma insisterò oh la polizia ehi abbiamo trovato l'impostore bonzo forza andiamo a prenderlo oh no l'ha già uccisa ti prego non farmi del male fermo lì criminale ho paura sei salvo ora amico preso te lo sei meritato babbeo ma ora mi manca la mamma grazie bonzo vieni qui amico andrà tutto bene ora come promesso